Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale e fondatrice del Summit per l'Educazione Positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere. Sono super felice di ritrovarti e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulle sfide, sulle sfide che incontriamo da genitori e sull'essere portati o meno per fare genitori e mille altre cose, quindi le sfide che incontriamo noi ma anche le sfide che incontrano, che incontrano i nostri bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo. A volte mi chiedo se io sia l'unica ad avere figli così, che mi rispondono, che urlano, piangono per dei motivi che mi sfuggono. A volte mi chiedo se io sia l'unica a non sapere cosa fare, a sentirmi così profondamente diversa dall'immagine della mamma che sembra emergere dai manuali di educazione. La mamma calma, con i figli calmi, che però sanno anche ridere e scherzare e mi chiedo se forse io non abbia sbagliato, se forse non ci possa fare niente, forse non sono tanto buona come mamma. Nei periodi di difficoltà quante volte ti trovi a dirti queste cose? Quante volte ti è capitato di pensarle? Attenzione perché oggi parliamo di quando noi o i nostri bambini, quando tu o i tuoi bambini siete così sfiduciati da voler lasciar perdere qualsiasi sforzo, da avere la tentazione di abbandonare tutto. E se ti riconosci nello sfogo di poco fa, oppure se i tuoi bambini fanno fatica in un qualche ambito, non so, a scuola, nei rapporti coi compagni, questo episodio ti accenderà delle lampadine. Se ti ricordi nello scorso episodio abbiamo parlato di come sia difficile, a volte, accettare e mettere in pratica nuove soluzioni di fronte a un determinato comportamento X dei nostri bambini, di come tanto spesso la risposta di default sia non ho tempo, di come ci protegga da una fatica più grande che a quella di cambiare. E se non ti ricordi o ti sei persa l'episodio, ti invito ad ascoltarlo perché oggi mettiamo un altro pezzetto del puzzle intorno alla grande domanda. Ma io come lo risolvo questo problema con mio figlio, con mia figlia? Allora partiamo dall'inizio. Magari stai vivendo una situazione con i tuoi bambini che non capisci, che ti crea tensione. La tua risposta sembra non avere l'effetto desiderato. Magari provi qualcosa di diverso, ma sembra sempre non funzionare, no? Quello che tu provi non ha effetto. Perdi la fiducia, ti convinci che non ci sia niente da fare, che ci sia qualcosa in te o nei tuoi bambini che non va, che fa di te o di voi dei casi senza speranza, a parte forse lasciar passare il tempo e sperare che crescendo le cose si sistemino da sole. Ora, attenzione c'è una doppia lettura in questo, cioè da un lato, mamma mia che botta, se perdi la speranza, se perdi la fiducia in te come genitore, nei tuoi bambini, ti porti dietro una sofferenza mica da ridere. E lo so perché ci sono passata anche io, ed è stato l'inizio di questo viaggio, ma prima di aprirmi alla luce, alla soluzione, al cambiamento, alle cose che si potevano, che potevo trovare, che potevo fare, c'è stato un grande tunnel di fatica, di dolore, di difficoltà, no? Dall'altro lato, se tanto non c'è speranza, allora tanto vale lasciar perdere. È inutile che provi delle soluzioni, che cerchi di capire, che provi a cambiare qualcosa. Non vale la pena, non vale la pena fare lo sforzo di cambiare e se non provi a cambiare, se continui a fare la stessa cosa e a ottenere lo stesso risultato, questo non farà che darti la conferma che non c'è niente da fare. E così via. La sfiducia aumenta ogni volta. E con i nostri bambini funziona lo stesso. Qualche mese fa sono andata a parlare con le maestre d'inglese dei miei bambini per sapere un po' come andava, ed entrambe si erano mostrate un po' perplesse di fronte alla scrittura di mio figlio minore, che era in prima elementare. Lui è di fine anno, quindi ok, è vero questo, però ecco la tua scrittura ogni tanto è proprio, e non voglio dire illegibile, perché non era quella la preoccupazione. La preoccupazione era legata alla sua difficoltà e anche alla sua ritrosia a impugnare bene penne e matite, a tracciare i segni con relativa precisione, dico ovviamente relativa per la sua età, a voler colorare anche. Allora io ho annuito perché in effetti i suoi disegni sono ancora simili a quelli che faceva la scuola materna, e anche perché so che non gli piace. Quindi da professionista poi so che non si devono confrontare i figli tra loro, eccetera, ma da mamma è inevitabile non usare uno e l'altro come metri di paragone. Quindi maestre, perché non prova a fargli fare qualche attività apposta per sviluppare la sua manualità fine, come dipingere o infilare le perline nel filo? Tutti suggerimenti stravalidi, ancora una volta da professionista lo so, ma da mamma so anche che lui odia fare questo genere di attività. Non gli piace perché fa fatica, quindi ero già lì, mamma mia adesso come faccio a trovare un escamotage, un'attività sufficientemente, che lo attiri sufficientemente da farsi che accetti di farlo senza doverlo costringere come se fosse un compito aggiuntivo, no? E qualcosa ha fatto click nella mia mente quando mi hanno spiegato il growth mindset in questo modo, perché vedi, noi che siamo cresciuti in un'epoca in cui di neuroscienze, neuroplasticità non si parlava e non si sapeva, abbiamo anche ricevuto un po' questa impostazione da o sei portato o non sei portato, se sei portato vai fortunatissimo spacchi, fai le cose senza fatica alla grande, se non sei portato però è meglio se ti cerchi altro da fare. Oppure, ormai che hai una certa età, questa cosa qui non la puoi più fare, ti è preclusa, no? E per carità, attenzione, è vero che sarà estremamente improbabile diventare grande atleta allenandosi per la prima volta a 70 anni, però tanto non confondiamo probabile con possibile. E adesso ti spiego di cosa sto parlando e cosa c'entra con te, mamma, e i tuoi adorati pargoletti. Riprendo l'esempio con mio figlio, no? Non gli piace disegnare, fa fatica a impugnare bene la matita, quindi fa gesti veloci e imprecisi, il risultato non è un granché e quindi non lo gratifica più di tanto. Quindi non ha voglia di riprendere la matita in mano e riprovare, preferisce fare altro, ma siccome preferisce fare altro, si esercita poco, proprio quando lo costringi, no? E quindi non migliora. E il divario tra i disegni che fa lui e quelli dei compagni che invece adorano disegnare e sono sempre lì che disegnano chiaramente cresce. La fatica che fa rimane uguale perché non si esercita e quindi è sempre meno voglia di disegnare e quindi è sempre più sfiduciato. A che serve che ci provo tanto non mi piace, tanto non sono capace, il che porta a esercitarsi sempre meno e quindi a riuscire sempre meno rispetto agli altri e così via. Allora in quest'ottica, no? Magari è anche vero che a parità di età e di momento dello sviluppo lui risulta meno portato tra virgolette a disegnare. Fa più fatica con i movimenti manuali fini. Però fino a che punto è una verità di nascita genetica e a partire da che punto questo diventa invece una mancanza di esercizio? E lo faccio l'esempio di mio figlio ma penso che anche tu ti possa riconoscere nel tuo percorso e in quello dei tuoi bambini in tante situazioni, no? In questo modo. Come fa a sapere il mio bambino se davvero non gli piace disegnare e prendo questo esempio ma puoi sostituirlo tranquillamente con qualsiasi altra cosa? Oppure se è la frustrazione dal non ottenere facilmente il risultato immaginato a non farglielo piacere. In altre parole se superasse quella fatica insistendo ed esercitandosi abbastanza ad allenare la sua mano a fare meglio il movimento e a farlo con meno fatica con un conseguente miglioramento anche dei suoi disegni non è che allora magari inizierebbe a piacerle di più e quindi a disegnare più spesso e quindi disegnando più spesso migliorare i suoi disegni eccetera eccetera eccetera. Vedi ecco il circolo vizioso che parte da è tutto inutile non ce la farò mai quindi che lo faccio a fare diventa un circolo virtuoso e puoi trovare tantissimi esempi di questo nella vita di tutti i giorni. Questa è la magia e la conseguenza tangibile della neuroplasticità che ci dice che finché moriamo il nostro cervello rimane attivo rimane che cambia che crea nuove autostrade neuronali nuove connessioni tra i nostri neuroni. Prendi lo sport prendi lo sport allora faccio l'esempio con i miei bambini ma ancora una volta per partire da una cosa tangibile e concreta mia figlia non è tanto brava con la palla e nella nostra famiglia siamo in tanti e potrei raccontarti di tutti i miei fallimenti a pallavolo siccome non è tanto brava con la palla chiaramente non si diverte molto quando gioca perché non riesce a prenderla che sia calcio pallavolo handball basket non importa non segna punti deve correre a prendere la palla lontano ogni tre secondi proprio perché non la prende in più perde e i bambini come avrei ben visto in generale odiano perdere quindi preferisce altri giochi fa fatica pure perde normale no allora cosa succede siccome preferisce altri giochi non si impratichisce poi va a scuola e si ritrova con bambini che magari da fin da piccoli adorano la palla che si esercitano nel quartile tutti i giorni con gli amichetti coi genitori con dag da soli coi fratelli più grandi ed ecco che nell'ora di ginnastica a scuola fanno la partita a pallavolo handball a basket e lei non prende la palla e i compagni di squadra si arrabbiano perché li fa perdere e quelli dell'altra squadra la prendono in giro e lei ha sempre meno voglia di giocare è tesa perché ha paura che se sbaglia di nuovo fioccherà nei commenti e lo vedi di nuovo il circolo vizioso quella che magari inizia come una leggera differenza di gusti e anche magari di predisposizione nel senso che poi abbiamo anche delle differenze fisiche ed è chiaro che se parliamo di sport conta anche questo però può trasformarsi in un divario enorme se ti convinci in questa cosa tanto non sono bravo e ancora una volta attenzione non significa negare le differenze significa accoglierle tutte e significa che magari qualcuno di noi ha bisogno di fare più esercizio ha bisogno di più ripetizione di più sforzo per ottenere lo stesso risultato diciamo di un altro che invece ha bisogno magari di più risorse o di risorse diverse rispetto a quelle che ha che è molto diverso rispetto a gettare la spugna completamente dicendo tanto non sono portato a questo punto la domanda diventa se io faccio fatica come genitore se tu fai fatica come genitore mamma se vedi che i tuoi bambini fanno fatica in qualcosa se per la frustrazione che deriva dal non riuscire i bambini hanno voglia di lasciar perdere se tu hai voglia di lasciar perdere se ti dici tanto non serve a niente come puoi invece trovare l'incoraggiamento e le risorse di cui hai bisogno l'unica cosa sicura è che se lasci perdere rimarrai dove sei oppure anche peggio perché il problema potrebbe peggiorare se lo lasci così com'è nel tempo se provi certo non è sicuro che troverai subito la risposta che ti serve o la soluzione che ti serve o che raggiungerai subito il risultato che speri però vale la pena tentare l'unica cosa certa è che non riesci se non cambi allora questa è una conversazione duplice perché noi adulti tu genitore sei sempre lo specchio dei tuoi bambini se tu pensi di non farcela se tu pensi che non ci siano soluzioni a qualunque sia il problema che stai affrontando con i tuoi bambini perdi la fiducia anche nei tuoi bambini non hai fiducia in te non hai fiducia in loro e se i tuoi bambini vedono che tu hai perso la fiducia nei loro confronti certamente non l'avranno loro nei confronti di se stessi dura per un bambino dirsi io mi fido di me anche se mia mamma non è convinta che io ce la faccia no una cosa che arriva un po più tardi è un po come essere in quei giochi tipo sai gioco dell'oca no in cui per vincere devi fare col dado esattamente il numero di caselle che mancano per arrivare all'arrivo altrimenti devi tornare indietro e sei lì e il gioco va avanti per ore a tirare sto dado avanti indietro avanti indietro avanti indietro senza andare mai davvero avanti senza arrivare da nessuna parte ecco mi viene un po questa immagine quella fiducia che puoi superare le difficoltà se trovi le risorse e supporto giusti è davvero la chiave per uscire da qualsiasi impasse questo era un po l'effetto di incoraggiamento che volevo dare a questo episodio di oggi per dirti non è una questione di chi sei tu o chi sono i tuoi bambini è una questione di risorse di ripetizioni di esercizi di soluzioni di accompagnamento di supporto che hai a disposizione per riuscire a risolvere qualunque difficoltà o problematica che ti si possa porre di fronte e questa fiducia questo incoraggiamento è la chiave per affrontare queste difficoltà in te come genitore ma anche per i tuoi bambini e davvero non vedo l'ora di leggere le tue mail i tuoi messaggi e sapere magari che difficoltà stai affrontando come puoi applicare questo nella tua vita ti do appuntamento alla prossima settimana spero che ti stia godendo questo mese di agosto e a presto